Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana, fino a 1 veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, fino a 12 controllo della velocità tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monte Rigioni e Siena in direzione Siena, sulla statale 67 Tosco-Romagnola senza unico alternato per lavori tra Montelupo-Fiorentino e Brucianesi. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze e per i lavori alla linea 3 della tramvia, domani sarà chiuso al transito il sottopasso ferroviario di Via dello Statuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!